Il silenzio, la fede, una speranza affogata nel buio, un piatto offerto da rifiutare in assattico banchetto, acqua stagnante, acqua nel marmo contenuta, dal sapore alieno, impercettibile oltre la questione del gusto, strana sensazione di sfida, lo stomaco è vuoto, l'intestino è a riposo ormai da troppo tempo, la percezione è alterata, estremamente alterata, io non so se quello che i miei organi di senso ricevono è ciò che io identifico come questo, la sabbia è fredda e bagnata, ma l'acqua è sicuramente qualcos'altro.